segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te d'accordo che sia stato un errore eliminare il reddito di cittadinanza in quella forma secondo me è stato un errore farlo in quella forma aiuti si danno ci sono sempre stati ci sono altrove la combinazione della cittadinanza con il reddito se tu lavori hai un reddito se hai la cittadinanza hai i diritti se ne hai bisogno ma l'idea come dire dello status a reddito di cittadinanza contiene secondo me un errore ripeto in tutti i paesi si hanno aiuti ma non sono immaginati come sostitutivi del reddito si chiamano aiuti appunto e questo è secondo me è stato un errore poi è venuto il covid è stata come dire una cosa che ha aiutato enormemente chi aveva bisogno ma quando è stato inventato non c'era il covid e quindi c'era secondo me un errore io sono abbastanza sballordito lo dico anche al professor tremonti perché il reddito minimo garantito esiste in tutta europa esattamente il contrario il governo torna a una stagione nel quale rimarremo un'altra volta la pecora nera d'europa tra l'altro dopo che a gennaio aveva fermato un documento giorgia meloni presidente del consiglio nella quale dice che in tutti i paesi d'europa sotto una certa soglia ci deve essere un aiuto di stato contro la povertà ma perché c'è questo accanimento non c'è questo accanimento perché c'è una crisi internazionale perché c'è un modello ben preciso cioè si buttano poveri in strada perché oltre all'abolizione in reddito di cittadinanza c'è l'abolizione del finanziamento al fondo per l'amorosità incolpevole cioè ci sono 900 famiglie italiane a rischio sfratto che finiranno in strada c'è un'eccessiva precarizzazione perché lo schema nel quale questo paese la destra dice di andare avanti è quello di giocare sul costo del lavoro cioè di sfruttare le persone di provare così aumentare la competitività ora io mi domando ma ha funzionato negli ultimi 25 anni questa ricetta nel 2008 avevamo 8 milioni di poveri ora ne abbiamo in 15 anni oltre 14 milioni il tema non è guardarsi indietro quanto ha sbagliato di più il centrodestra rispetto al centrosinistro viceversa il tema è che le politiche che sta mettendo in campo il governo di destra sono anacronistiche sono un accanimento per i più deboli e non servono al paese e non servono nemmeno al nostro sistema imprenditoriale perché non c'è nessuno c'è una stagione nella quale potremmo avere la transizione ecologica la transizione digitale cioè delle sfide nel nostro tempo in quale giocarsi la partita e su cui vorremmo confrontarci e l'unica cosa che porta il governo qual è il primo maggio è l'estensione dei voucher guardi chiudo benissimo l'aumento e la diminuzione del cuneo fiscale l'aumento in busta paga ma in questo paese c'è una ritorica insopportabile sulla mia generazione e quelle precedenti sul fatto che non fanno più figli quelle persone perché non fanno più figli perché vanno a ballare i decreti rave perché vanno con le ong a salvare migranti perché mangiano la farina di insetti o la carne sintetica o forse quelle persone non fanno figli perché non vedono davanti a sé una stabilità una serenità lavorativa quei cinque sei mesi sono ossigeno ma non basteranno per costruire un paese che possa avere aumentare e aumentare anche l'innovazione con due dati uno l'inflazione abbiamo visto prima queste statistiche